Ciao ragazzi di Guigabbi e benvenuti a questo vlog dei 700 iscri... Oh! Quante volte ve lo devo dire che questa non è Narnia! Basta! Andatevene e tornatevene nel vostro paese! Sbagliano sempre armadio! Basta! Salve amici di Guigabbi ed eccoci finalmente al vlog dei 700 iscritti! Sinceramente in sei mesi non mi aspettavo che così tante persone si iscrivessero al mio... Suicide Mouse mi perseguita... Comunque volevo ringraziare tantissimo gli utenti della mia pagina Facebook che ogni volta lasciano un mi piace, un commento, mi aiutate un casino, siete dei grandi, grazie mille! Però volevo ringraziare in modo speciale una persona, la piccola Alice che mi ha lasciato questa foto bellissima dove possiamo vederla con in mano un foglio che ha scritto Gabbi sei forte mentre si sta guardando una delle mie puntate di Minecraft, più precisamente quella del diamante sospetto. Quindi Alice sei tenerissima, sei dolcissima, grazie mille per questo regalo perché io lo considero veramente un regalo. Queste sì che secondo me si possono chiamare le soddisfazioni di uno youtuber. Cioè fare dei video che intrattengano, facciano felici persone come Alice veramente mi ripagano di tutti gli sforzi che faccio per fare uscire video quasi ogni giorno. Quindi un grazie ancora a tutti quanti! Comunque per questo video ho preparato qualcosa di speciale, una canzone al pianoforte, si chiama One Summer Day ed è stata composta da Joy Isaishi, ovvero quello che gestisce praticamente quasi tutte le colonne sonore dei film di Hayao Miyazaki. Questa qua è praticamente il tema principale della Città Incantata, quindi una canzone, se siete degli amanti come me, di tutti i film di Miyazaki, stupenda. Quindi vi lascio al video e buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!